Perché, onestamente, sono brutto, però l'unica cosa bella che ho è la voce, sentite, sentite anche zig zig i brividini, no? Bella voce, sì, ma adessamente al buio sono perfetto. Ecco perché iniziò alla radio la sua prolifica carriera, Carlo Croccolo, classe 1927. Le sue vere capacità le scoprì pian piano, quel talento che gli aprì le porte del teatro e del cinema, con le 118 pellicole nelle quali ha recitato. Quello con Totò fu un lungo sodalizio che iniziò quando Croccolo era appena ventenne. Il principe imparò a volerli bene, ma non era facile sopportare le sue scorribande, come quando a Cinecittà scorrazzava con i suoi pattini, disturbando le riprese. Ci senti, dobbiamo provare quella scena dell'armadio, vieni qua, entra nell'armadio. Io entrai nell'armadio, mi chiuso dentro, è chiave, c'è adesso perlomeno così per un'ora sei buono. Continuiamo a girare, mi chiuso dentro l'armadio. Quando la sua salute vacillò, Totò lo scelse anche per sostituire la sua voce nelle scene girate in esterna. Quello del doppiaggio fu un altro settore che impegnò Croccolo in molte occasioni, prima ancora di quella di Alberto Sordi, fu sua, la voce di olio. Infine, il teatro, il suo lavoro al fianco di Edoardo De Filippo, che però, come è noto, ad un tratto litigò col fratello Peppino. Peppino pensò a me, mi chiamò, mi chiamò anche Titino, e mio frio non sa parte al cinema che io accettai, e non ti dico Edoardo. Edoardo mi cacciò via dal teatro, e da allora per vent'anni non ha voluto più nemmeno vedermi.